Francesca partiamo da te, dalla tua formazione, dal luogo in cui lavori e poi andiamo a descrivere due progetti che portiamo ad abito qui oggi. Perfetto, allora io lavoro a Recanati che è una cittadina, una piccola cittadina marchigiana, padre ovviamente del Giacomo Leopardi. Nato a Porto Recanati nel 1698. Allora, ho lo studio praticamente proprio sotto la torre del passero solitario, quindi penso che nella mia formazione abbia abbastanza inciso, però mi sono laureata a Venezia, ho fatto il mio percorso di studio a Venezia e un anno poi... Sempre nell'Adriatico, dai. Sempre nell'Adriatico, sì sì, sempre nell'Adriatico. Lavoro prevalentemente nelle Marche, ma ho avuto modo anche di fare qualche esperienza in Lombardia, in questo caso Milano, nel Parma, Santa Margherita Ligure, quindi diciamo che c'è anche la volontà di spostarci. Sempre nell'ambito residenziale? Sempre nell'ambito residenziale, quasi sempre residenziale. Abbiamo fatto qualche edificio per uffici, però di cui abbiamo curato il direzionale. Ok. Oggi di cosa parliamo? Quali progetti portiamo? Allora, oggi porto un progetto che in realtà è un piccolo progetto, ma per noi è stata una grande esperienza, perché siamo riusciti a costruirlo in maniera molto sartoriale con il committente ed arrivare quasi ad un chiave in mano, a quello che si può dire un chiave in mano. Siamo partiti dalla ristrutturazione di questo edificio di edilizia minuta, decisamente minuta, vicino al Colle dell'Infinito, di nessun pregio architettonico, però abbiamo cercato di ridargli... L'Ermocolle? L'Ermocolle, esatto. Abbiamo fatto diversi interventi sull'Ermocolle, tra cui alcuni sono degli edifici rurali, ex stalle, che abbiamo trasformato in unità. Perché dici che la letteratura Leopardi sono presenti, sono vicini a te nel progetto? Come potresti tradurla questa tua affermazione? La posso tradurre nel senso che in ogni progetto fatto, svolto, insieme poi al mio gruppo di progettazione di lavoro, ci sono sempre quei momenti di riflessione abbastanza lunghi, ma con una vitalità e un dinamismo che mi ricorda tantissimo l'ottimismo leopardiano, perché poi io sono profondamente convinta che appunto Giacomo Leopardi fosse un ottimista e non un pessimista. Un pessimista, cosmico. Cosmico. Sono momenti molto riflessivi quando poi arriviamo alla sintesi da presentare al comitente. Mi è piaciuta molto la locuzione intervento minuto, significa che hai una piccola superficie e curi ogni dettaglio? Sì, in questo caso esattamente sono circa una sessantina di metri quadri a piano, quindi è un'abitazione stretta che si è incastrata tra altri due piccoli manufatti che praticamente sale in verticale e abbiamo cercato di unire questi ambienti che prima altrimenti erano delle piccole stanze tramite questo alleggerimento della scala che dal piano terra arriva poi fino alla manzarda alleggerendosi. Sono praticamente tre livelli e inizialmente la scala, che è una scala di un edificio in linea, quindi veramente senza alcuna pretesa e noi abbiamo voluto ricordare nel nostro progetto, perché stiamo facendo riqualificazione urbana di un edificio di nessun valore che però è un documento storico per noi, quindi cerchiamo di rileggerlo in quest'ottica e quindi partiamo dalla base che è una scala in pietra che poi si alleggerisce trasformandosi in una scala sempre rettilinea in ferro e legno per poi invece diventare leggermente più mossa questa scala in ferro e vetro. E poi c'è dall'alto questa pioggia di luce che viene dalla copertura che ci arriva praticamente fino al piano terra. L'ultimo progetto invece è il secondo progetto? Il secondo progetto in questo caso è invece un'abitazione monofamiliare però in campagna dove praticamente il progetto nasce dall'esigenza del committente che viene da noi dicendo guarda ho questa casa che era una bellissima casa rurale fine 800, poi purtroppo è stata trasformata in questo aveva questo tetto completamente asimmetrico, questo scalone tutto chiuso, tamponato, stato in questa casa di campagna degli anni 70 senza nessuna logica e vorrei trasformarlo. Nella trasformazione noi abbiamo voluto comunque ripercorrere un poco quello che era stata le varie stratificazioni e cambiamento dell'abitazione, quindi non abbiamo fatto il classico casolare di campagna ma abbiamo cercato di ripercorrere quello che era il nucleo centrale dell'abitazione evidenziandolo e poi anche facendo vedere le stratificazioni, tra virgolette più violente e anche meno delicate subite negli anni 70 in cui il casolare era stato ampliato in qualcosa di più grande. Gli abbiamo lasciato questo aspetto un po' più industriale, infatti all'interno c'è questa scala in cemento bianco praticamente che sale fino al piano primo e poi anche qui, questo è un po' il nostro lavoro cercare di ricavare da ogni sottotetto un'altra abitazione, un altro piano, abbiamo ricavato praticamente il sottotetto che è lo studio di stampa delle foto che è il lobby del proprietario. Senti, siamo alla fine di questo breve racconto, ti chiederei una parola o una locuzione, quindi proprio flash, per descrivere il vostro modo di lavorare, il vostro lavoro. riflessione e tante ore in cantiere, attenzione per il dettaglio e le finiture. Grazie.